90 lavoratori in mobilità per il comune di Praia Mare, già attiva in 39 unità distribuite tra l'area amministrativa e quella tecnica. Per il mese di giugno se ne attendono altre 11 che dovrebbero prendere servizio già dalla prossima settimana. Tre mesi di lavoro e poi il cambio con altri 40 lavoratori richiesti alla provincia di Cosenza. Si tratta di lavoratori che sono stati espulsi dal mercato del lavoro e che devono partecipare a tirocini formativi della durata di tre mesi. Stagio che rientrano nel piano sociale delle politiche attive per i percettori di ammortizzatori sociali in deroga. I lavoratori hanno due possibilità, seguire corsi di formazione o svolgere tirocini formativi presso enti pubblici o privati. I comuni della Riviera dei Cedri si sono già attivati, partiti ad aprile i comuni di Tortora ed Aieta. Diversi profili professionali richiesti dai vari enti comunali, assistenti amministrativi, collaboratori di segreteria, operai generici, ma anche operatori specializzati come idraulici, elettricisti, autisti e giardinieri. Preamare ha distribuito le varie unità operative in modo da coprire la stagione estiva, ma anche gli ultimi mesi dell'anno in corso. Il 31 dicembre 2012, infatti, il progetto giunge al suo termine. E dopo i tre mesi, purtroppo nessuna garanzia di assunzione per quanti verranno occupati 30 ore alla settimana e continueranno a percepire circa 390 euro al mese pagati dalla provincia di Cosenza. La spiegazione da parte degli enti comunali è semplice. Le assunzioni negli uffici pubblici sono bloccate fino al 2015, come stabilito dal decreto 1000 proroghe, ma se anche ci fosse questa possibilità, il limite consiste nell'incapacità di spesa per i comuni e Praia non è da meno. La speranza per i lavoratori in mobilità risiede dunque in questa nuova esperienza maturata durante i tirocini formativi, che potrà dare loro un know-how più adatto per entrare a pieno titolo nel mondo dell'occupazione.